Non si è ancora costruito niente, 4 secondi al termine, Arci si prende un tiro, difficile, ma lo mette a segno. Palla ad Arci, Toscano proprio di fronte alla panchina di Meccacci, bella questa combinazione tra i due lunghi, Berti e Arci. Palla a Marx in punta, palleggio arresto e tiro, niente tiro, solo palleggio. Palla per Tomassini che serve sotto Arci, che dà un ottimo pallone per Berti che va a schiacciare Moreno, gioca il pick and roll. Poi si arresta, palla per Tomassini fuori dai 6.75, mancano 4 secondi, step back, tiro da 3 di Tomassini. Paglia poi contropiede e stoppatona di Derek Marx, è andato su morbido Sansevero e qua c'è dall'altra parte Zampini. Tomassini prova a buttarsi dentro, difende bene su di lui Arnaldo, lo costringe a dare fuori palla a Zampini, si arresta ed è in gas stasera Federico Zampini. Moreno, Marx, pick and roll con Arci, arresto e tiro, assegno Marx, era un po' che non muoveva la retina. In palleggio, prova a battere Daniel, poi serve Toscano che si alza dai 6.75, tripla, lui Bogliardi, gioca nel pick and roll, poi Marx gioca l'uno contro uno. Sulla difesa di Pasi, in tiro sbagliato, gran rimbalzio, offensivo di Toscano che mangia in testa, niente di meno che al miglior rimbalzista del girone. Arci, serve nuovamente il capitano che si butta dentro, probabilmente è buono, infatti c'è continuità. Marcato da Arnaldo, palla sotto ovviamente, se la gioca contro Arnaldo, raccoglie i piedi e va a realizzare da sotto. Tomassini in punta, nuovamente cambio, Moreno si alza dai 6.75, assegno, azione confusa, si buttano un po' tutti, palla poi per Moreno che serve Toscano. Tomassini ma si va dall'altra parte, Arci deve provare a buttarsi dentro e inchioda una gran schiacciata, Nick Arci, si porta a casa il ferro. 14 secondi, proverà a consumarli tutti Tomassini, tiro su un piede solo e canestro 80.63.